Una vita a cercare funghi. La sicurezza data dalla lunga esperienza. E poi l'errore fatale. Morto luned mattina al Policlinico di Milano Davide Vismara. 79 anni. Pensionato di Besana Brianza. Ucciso dalla manita Falloides, uno dei funghi pivelenosi che si trovano in Italia. Sono molto gravi anche le condizioni della moglie. 78 anni. Ricoverata all'ospedale di Desio in prognosi riservata. Le condizioni dell'anziano erano apparse fin da subito drammatiche. Al punto da trasferirlo da Karate al Policlinico di Milano. Qui ha lottato con la morte per tre giorni nel reparto di rianimazione. Ma alla fine non c'è LH fatta. Appassionati i cercatori di funghi. I coniugi Vismara avevano raccolto dei prataioli di fronte alla cappelletta dell'ospedale di Karate Brianza. Per loro, erano funghi familiari. Li mangiavano da un vita nel loro piatto preferito. Il risotto. Non si sono accorti che purtroppo, tra i funghi, c'era anche una manita Falloides. Un fungo che, specialmente quando spuntato da poco, ha un aspetto assai simile a quello dei prataioli. Ma contiene una sostanza altamente tossica che provoca danni irreversibili al fegato e spesso conduce alla morte. Anche pochi grammi possono essere fatali. Venerdomattina i due pensionati si sono sentiti male. Hanno chiamato il figlio. Che li ha soccorsi e li ha portati al pronto soccorso dell'ospedale di Karate. Dove sono giunti con un violento mal di stomaco e un forte malessere. Le loro condizioni sono apparse cos gravi da suggerire il trasferimento d'urgenza. La donna a Desio. Il marito al Policlinico di Milano. Dove vengono curati i casi più gravi di avvelenamento da funghi. Ma per lui stato tutto inutile. Il caso più grave di intossicazione da funghi in Brianza risale al 2010. Francesco Donchi. 67 anni. Di Beriosco. Mor dopo dieci giorni di agonia nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Erba. Dopo aver mangiato funghi velenosi. Da lui scambiati per chiudini. Gli esperti raccomandano sempre di far controllare i funghi a esperti micologi o ai tecnici. Dell'Az di Monza. Le differenze tra un fungo commestibile e uno velenoso possono essere molto difficili da cogliere. E' un errore fatale sempre in agguato. Guarda su MSN. Una riserva di funghi nel centro di Marino. Mediaset. Riproduci nuovamente video. IMPOSTAZIONE NON Attivo. HDHQSDLO RDLO . .